Il presidente della regione toscana Enrico Rossi, dalla seduta plenaria del Comitato delle Regioni dedicata allo Stato dell'Unione a Bruxelles, ha rilanciato l'appello alla coesione e all'impiego di maggiori risorse per lavoro e occupazione. Bene l'impegno espresso dall'istituzione europea a determinare il bilancio dell'Unione Europea per il post 2020 prima delle elezioni, ma i tagli preannunciati preoccupano molto le regioni. Noi regioni tutte insieme poniamo un problema, cioè che se aumentino i fondi strutturali per poter far fronte a politiche che vadano verso il lavoro, la protezione sociale, verso il diritto alla casa, verso il diritto ad essere assistiti se si è in una condizione grave di salute, di povertà. Tutto questo purtroppo non va in questo senso. Si preannuncia un taglio del 10% alle risorse del fondo strutturale e quindi la nostra battaglia è perché almeno si recuperi questo taglio rispetto al settennato precedente. Da Bruxelles Rossi ha poi rilanciato l'appello insieme contro il razzismo, sottoscritto a giugno scorso con il sindaco di Firenze Dario Nardella e firmato da migliaia di cittadini e rappresentanti del mondo della cultura e dell'arte. Lo ha fatto nel corso dell'incontro l'Europa al Bivio, organizzato dalla regione toscana e dal movimento europeo Italia.